questo è un incrocio si vede che è mezza mucca si vede che è un maschio si vede che è un maschio questo è il corno giù è rotto? anche l'altro si hai visto il maschio dal mezzo? se c'è mal bisogno si è più scuro io voglio provare a fare ok